Come avete superato il 2020 per il Covid-19? Avete resistito bene fino alla conclusione dell'anno? Sì, abbiamo resistito bene, abbiamo chiuso il bilancio 2020 inutile, abbiamo chiaramente avuto una perdita e fatturata importante nei mesi di marzo e aprile, però da maggio in poi abbiamo pareggiato il 2019 che è stato il nostro anno migliore della storia. Quindi siamo soddisfatti, i nostri soci hanno avuto anche liquidazioni mediamente più alte rispetto allo storico, quindi è un'annata che con grandissime difficoltà siamo riusciti a portare in fondo con buoni risultati. L'osservatorio economico dichiara che nei primi tre mesi di quest'anno c'è un più 33% dell'export floro-vivaistico, mentre un'indagine a livello nazionale dimostra che 7 italiani su 10 sono alla ricerca di piante per giardini e terrazze e di fiori per gli interni. Il mercato è in ripresa? Sicuramente sì, i primi sei mesi sono andati molto bene, è stata una grandissima richiesta di piante e fiori, ci sono stati anche problemi di produzione, quindi c'era una fortissima domanda di prodotto e c'era poca offerta, quindi anche i prezzi sono andati in rialzo. Sicuramente l'effetto Covid, l'effetto di chiusure, quindi le persone hanno ricercato più il nostro prodotto, dobbiamo vedere nella seconda parte dell'anno dove ci fossero minore restrizioni se questo trend si manterrà. Abbiamo fiducia che un pezzo di quel trend, quindi un ritrovato interesse per il prodotto piante e fiori rimanga anche nel prossimo futuro. Siamo cresciuti sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale, insomma la richiesta è stata forte in tutta Europa. È un mercato che interessa sempre di più la grande distribuzione, quindi abbiamo visto sempre più una ricerca del prodotto all'interno dei scaffali di tutte le principali catene, riteniamo che sia un trend che possa continuare anche nei prossimi anni, quindi è un mercato su cui noi stiamo investendo e puntando perché è un mercato a momento molto dinamico. Per i vostri produttori di piante e fiori locali questa cooperativa è fondamentale come punto di riferimento? Direi proprio di sì, è una cooperativa storica presente sul territorio che è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni, rappresenta un punto di commercializzazione per i produttori locali fondamentale. Offre tanti servizi, dà tante possibilità anche di crescita all'azienda perché vengono anche seguiti da un punto di vista produttivo, quindi sulle scelte da fare, su che tipi di produzione fare all'interno dell'azienda. Quindi oggi la Toscana è un punto importantissimo della realtà, non solo pesciatina ma anche a livello nazionale e se si vuole anche internazionale perché è conosciuta e commercializza anche con l'estero. Quanti sono i soci conferenti oggi? La Flora Toscana viene da un passato che a settembre compie 50 anni di attività, quindi è un'attività radicata sul territorio. Noi attualmente abbiamo 240 soci, soci locali e non, che conferiscono il prodotto in Flora Toscana. Quindi siamo una realtà di riferimento, soprattutto per la produzione locale ma anche per quella nazionale. Poi abbiamo anche soci extra Europa per quanto riguarda le rose. Questa cooperativa che esiste da mezzo secolo e che ha dato risposte importanti per il territorio, per voi come organizzazione rappresenta un riferimento forte? Sì, abbiamo tanti soci che ne fanno parte, sia sui territori di Lucca che di Pistoia soprattutto, insomma che da quando ci fu anche la fusione si è ancora accresciuto questo numero di soci e per noi è un soggetto di riferimento. Siamo stati di recente anche invitati all'Assemblea Generale che hanno fatto, siamo rimasti davvero favorevolmente colpiti dal fatto che il rapporto tra la produzione e l'indebitamento ha dato dei risultati positivi in un periodo come questo, quello della pandemia. Insomma veramente abbiamo visto dei dati su bilanci che ci fanno ben sperare, ci fanno pensare appunto a un soggetto che guarda al futuro e che come veniva sottolineato lì cerca di dare delle possibilità anche alle nuove generazioni perché credo che la sfida principale sia portare delle nuove forze all'interno del settore. La floricoltura ha un estremo bisogno, di quello è una delle cose che in quelle occasioni ci viene sempre ricordata e veniamo richiamati anche come organizzazioni di categoria a svolgere il nostro ruolo di raccordo, di incentivo e di stimolo anche rispetto al tessuto produttivo. Noi questo compito ce lo sentiamo tutto e cercheremo di lavorare in quel senso. Di aiuti e di provvedimenti ce ne sono veramente tanti, anche con il cosiddetto piano di ripartenza e di ripresa e resilienza anche lì sicuramente ci saranno dei fondi da intercettare e si potranno cogliere solo con delle progettualità già pronte, ce lo siamo già detti e su quello speriamo appunto di non perdere questo treno fondamentale. L'agricoltura hanno potuto approfittare anche della cosiddetta misura 4.0 per l'ammodernamento, un'altra cosa che anche in un settore specializzato come questo ci viene richiesto, quindi abbiamo tanti argomenti e tante cose da trattare veramente.